Interventi di manutenzione messe in sicurezza sulla strada provinciale 72B che da Vaccarella conduce a Capo Milazzo, nota più semplicemente come panoramica di Levante. A chiederli è il sindaco Carmelo Pino che ha inviato una lettera al commissario straordinario della provincia regionale di Messina. In più occasioni, ha scritto il primo cittadino di Milazzo, sono state segnalate le critiche condizioni di manutenzione della strada provinciale via Aldomoro, anche con riguardo ai muretti di delimitazione della sede stradale che assolvono anche la funzione di protezione rispetto al sottostante costone roccioso. Secondo quanto afferma Carmelo Pino nella sua lettera, a seguito di un recente sopralluogo, è stato accertato un generale peggioramento della situazione per la mancanza di elementi di protezione della strada, di piantoni di guardrail e persino di pannelli della ringhiera di protezione. A tal proposito, il comune di Milazzo ha provveduto anche a produrre un dossier fotografico per documentare la situazione. Una situazione che costituisce motivo di pericolo, prosegue Pino, visto che la strada è caratterizzata da considerevole traffico veicolare anche nelle ore notturne per la presenza di locali pubblici, camping e ristoranti. In conclusione, il primo cittadino ha declinato ogni responsabilità da parte del comune per danni a persone o cose, avvertendo che in caso di mancate risposte entro otto giorni, l'ente interverrà di conseguenza. Grazie. Grazie.